Musica E' stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale la proposta di legge sulle strutture di supporto agli organi di governo che definisce che i costi relativi all'introduzione della nuova figura del sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e all'ampliamento dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con la nomina di due segretari questori non graveranno sul bilancio regionale. Su questo atto Italia Viva ha deciso di non partecipare al voto. Noi fin dall'inizio abbiamo fatto una battaglia di carattere politica, siamo stati gli unici ad essere contrari, a istituire un nono assessore, a istituire due sottosegretari, ad aumentare l'ufficio di Presidenza da 5 a 7 persone, 5 cariche politiche che a nostro avviso sono eccessive, su questo abbiamo portato avanti una battaglia politica, in primis io in solitario, anche il mio partito, ma poi alla fine anche altri consiglieri e continuiamo nella nostra coerenza, siamo ormai arrivati a metà del mandato e riteniamo eccessivo un appesentimento dei costi della politica anche in un momento molto delicato di crisi economica, di difficoltà del personale dipendente. Siamo stati coerenti, non abbiamo partecipato al voto perché riteniamo che questo non fosse opportuno. Approvata a maggioranza anche la proposta di legge, l'iniziativa dei membri dell'ufficio di Presidenza, che regola i trattamenti economici delle figure del sottosegretario alla Presidenza della Giunta e dei segretari questori, a seguito delle recenti modifiche statutarie. La legge definisce anche le incompatibilità del sottosegretario. La nuova figura di sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, istituita con modifica statutaria, non graverà dunque sul bilancio e i costi saranno assorbiti rideterminando indennità e rimborsi spese. Si è stabilito che l'inserimento nel contesto degli assetti della Giunta regionale della figura del sottosegretario avvenga con una corrispondente riduzione delle indennità degli assessori, in modo tale che ci sia un'invarianza nei costi finali. La stessa cosa vale per i segretari questori, che vengono quindi inseriti all'interno dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale senza aumento di costi per la politica, perché gli altri membri dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale vedranno una corrispondente riduzione delle loro indennità per fare spazio ai segretari questori. Si arriva quindi all'incirca, a metà mandato, all'individuazione da una parte della figura destinata a collaborare e ad aiutare il Presidente della Regione nell'esercizio delle sue funzioni, dall'altra l'allargamento dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale senza che questo comporti costi collegati alla politica e quindi un aspetto che sicuramente i contribuenti oggi non vorrebbero vedere. Per la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, non si tratta di una figura fondamentale. La figura del sottosegretario come dell'allargamento dell'ufficio di Presidenza laddove abbia una funzione di utilità in qualche maniera per il nostro lavoro e quindi per il lavoro che serve a tutti i cittadini ha un senso e quindi non siamo contrari in maniera ideologica. Quello che però troviamo inaccettabile è che in un momento storico come questo e soprattutto in una fase dove nel Consiglio regionale lamentiamo la carenza di dipendenti e personale per attività come Artea, Arpa, quindi per tutti gli organismi che sono davvero di servizio e di supporto alle attività amministrative, spendere mezzo milione di euro per dare un appannaggio, un supporto a delle figure che sono eminentemente politiche. Mi viene da dire che il sottosegretario ha lo stesso appannaggio di personale di un assessore, quel non assessore che con tanta energia Eugiani Eugiani ha cercato all'epoca per i suoi equilibri interni della maggioranza. Ecco, riteniamo che sia una cosa scorretta, riteniamo che non sia l'atteggiamento con cui ci si dovrebbe approcciare alla politica e anche alla gestione. In numerose regioni governate dal centro-destra è prevista la presenza del sottosegretario. Per noi è utile una figura ovviamente a costo zero, tant'è che abbiamo vigilato e modificato il primo tentativo di scegliere un sottosegretario esterno al Consiglio regionale. Ma se è scelto all'interno del Consiglio regionale, quindi senza costi aggiuntivi per i cittadini, che ci sia una figura che faccia dal raccordo politico tra la Giunta e il territorio, cioè assolutamente per noi è utile. Poi in realtà non abbiamo capito se è utile o meno per il Partito Democratico, perché hanno aspettato due anni e mezzo a portare la legge in votazione all'Aula. L'hanno portata, dicendo, al termine di un congresso, di un'assemblea regionale del Partito Democratico, cinque mesi fa, quando il Presidente Gianni venne chiesto se avrebbe o meno istituito questa figura, e l'ha derubricata a una figura necessaria a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in Giunta. Quindi se serve a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in Giunta, ci sembra un po' una forzatura. Alla fine il nuovo eletto segretario regionale, Fossi, poco più di dieci giorni fa, ha detto che non è adesso il tempo di istituire il sottosegretario. Ad oggi non ci serve. Quindi non capiamo perché il Partito Democratico abbia voluto per forza votare questa Roma in Aula. Se non serve a loro, abbiamo stato contro per questo. Il capogruppo del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli, ritiene che l'approdo della vicenda relativa alla figura del sottosegretario stia trovando un esito equilibrato. È una figura che esiste in tante regioni italiane, dove amministrano o hanno amministrato un po' tutti i partiti, sia di destra, sia di sinistra, sia i 5 Stelle. Quindi non si capisce perché da parte di alcuni c'è stata invece una contrarietà all'istituzione di questa figura. È una figura che può risultare importante e molto utile per un migliore e maggiore collegamento tra i lavori del Consiglio e quelli della Giunta. Quindi è una figura che farà lavorare meglio entrambi i contesti e quindi a giovarne saranno i cittadini toscani perché se l'amministrazione pubblica aumenta la qualità è chiaro che aumenta anche l'efficacia e quindi aumentano anche le risposte che noi vogliamo dare. La Lega è a favore dell'istituzione della figura del sottosegretario. Sono favorevoli e abbiamo votato convintamente a favore dell'istituzione del sottosegretario perché in questi due anni e mezzo di mandato abbiamo denunciato più volte l'assenza del Presidente, l'assenza di tutta la Giunta regionale nei rapporti anche con il Consiglio, nelle varie commissioni, nella presentazione di proposte di legge, quando parlavamo di bilancio, di ambiente, di lavoro, di sanità. E quindi riteniamo che la figura del sottosegretario, auspicando che questa nomina avvenga, ripetendo che è a costo zero, quindi a invarianza di costi per la politica, avendo nominato un consigliere regionale che possa garantire maggioranza, che comunque ha anche delle corsie preferenziali, dei rapporti preferenziali con la Giunta, ma soprattutto l'opposizione nel capire, purtroppo ancora oggi su tantissime materie non l'abbiamo capito, quali siano le strategie del Presidente e della Giunta regionale su una serie di tematiche che ci troveremo ad affrontare a breve. Ci rendiamo plasticamente conto della necessità del sottosegretario, ha dichiarato Marco Stella di Forza Italia. Quello che siamo chiamati ad approvare oggi è un alto politico, ne hanno bisogno le regole del gioco della politica. Abbiamo tutti la responsabilità di spingere verso l'alto la politica, di affermare la dignità di ricoprire un incarico, ha proseguito Stella confermando il voto favorevole di Forza Italia. La via del futuro. Il Consiglio regionale mette a disposizione dei comuni toscani, anche per il 2023, oltre un milione di euro derivanti dagli avanzi di amministrazione, per promuovere e sostenere progetti volte alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, all'accesso alla cultura, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, regionale e delle distinte identità culturali del patrimonio toscano. Il nuovo bando del Consiglio regionale è stato presentato al Palazzo del Pegaso. Circa un milione di euro per un progetto che chiamiamo la via del futuro, via come verde e il sostegno alla mobilità sostenibile, inclusiva, così mettendo a disposizione risorse per arredo scolastico per studenti con disabilità. È aperta, aperta come le pagine di un libro e quindi risorse che mettiamo a disposizione per la promozione della lettura. Insomma, la via del futuro è una strada da costruire insieme a tutti i comuni della nostra regione. Ogni comune potrà presentare una sola domanda relativa a uno dei tre ambiti. Ad ogni singolo progetto sarà assegnato un contributo fino a un massimo di 15.000 euro. Per la presentazione delle domande c'è tempo fino al 17 aprile. Un Consiglio regionale che dimostra che mette da parte le bandiere dei singoli partiti e che in maniera unanime riesce a dare dei risposti di innovazione a sostegno di interventi che fanno della Toscana una regione sempre più moderna, innovativa e sempre più una regione d'Europa. Anche quest'anno siamo riusciti a risparmiare sui costi della macchina del Consiglio regionale e insieme tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza e per questo voglio ringraziare il Presidente Matteo siamo riusciti a elaborare una proposta che potesse parlare anche alla Toscana del futuro. Nello specifico 550.000 euro saranno destinati alla mobilità sostenibile, 200.000 alla promozione della lettura e 300.000 all'inclusione scolastica. Una mostra dedicata ai paramenti di Papa Niccolò V si intitola I panni aurei vellutati e sarà visitabile fino al 21 maggio a Fivizzano. Il capolavoro dell'arte testile del Quattrocento potrà dunque essere ammirato nel luogo in cui per 350 anni è stato conservato. L'esposizione nel Museo di San Giovanni è stata realizzata grazie all'impegno dell'amministrazione comunale di Fivizzano e curata da Barbara Sisti, direttrice del Museo di Ocesano di Sarzana con la collaborazione del Museo Nazionale del Bargello luogo di conservazione delle antiche vesti papali dal 1946. Io credo che in questa mostra sarà possibile ritrovare nella materialità di quel paramento che torna a casa il senso della storia, degli equilibri di potere, il racconto di un'epoca nella quale appunto un Papa come Niccolò V, fondatore della Biblioteca Vaticana, un protagonista della storia della Chiesa in anni centrali della sua lunga storia, si esprime appunto anche nella materialità, nella espressività riversata in questi oggetti. Credo che sia molto bello che Fivizzano possa riospitarli a casa in questa sorta di ritorno ritorno anche della idealità e della figura del Papa Niccolò V nella sua terra. Un momento storico che celebra una figura importantissima come quella di Niccolò V, nato a Sarzana e la cui madre era Fivizzanese. Sì, un evento straordinario che abbiamo fortemente voluto come amministrazione insomma per rivalutare una figura importantissima come quella di Niccolò V, Papa appunto Fivizzanese-Sarzanese, ce lo dividiamo con la città di Sarzana, ma di madre appunto Fivizzanese, Andrea Labosi, per cui un momento importante per la nostra comunità, un momento storico. Il parato è stato per anni di proprietà del Comune di Fivizzano per cui insomma siamo orgogliosi di questo momento. Il prezioso parato di seta e oro è stato proprietà del Comune di Fivizzano fino a quando, dopo il terremoto del 1920, fu ceduto allo Stato per la realizzazione di un asilo per l'infanzia. Finalmente è stato possibile riappropriarsene anche se solo temporaneamente. Il percorso è durato quattro anni. Finalmente oggi, dopo due anni, quasi tre di pandemia e tutta una serie di avversità che ci sono state nell'ultimo periodo, siamo riusciti, grazie alla collaborazione dell'amico, diciamo ci tengo a sottolinearlo, l'amico Valdo Spini, siamo riusciti in questo percorso ad ottenere appunto questo tra virgolette riappropriamento del parato. Io spero di aver contribuito nel miglior modo possibile alla realizzazione di una mostra che vuole richiamare non solo un'esposizione fatta nel 2009, ma una tradizione che ancora si ricorda a Fivizzano, che è quella della presenza del parato per 350 anni presso appunto l'antico convento degli Agostiniani del favoloso parato di Niccolò Quinto che per tutti gli studiosi del Tessile è veramente un unicum. È un insieme di vesti liturgiche di straordinaria importanza realizzate alla metà del Quattrocento, legate alle manifatture fiorentine che erano particolarmente specializzate nella realizzazione di tessuti di lusso e poi a alcune particolarità tecniche che speriamo attraverso anche la mostra potremo poi rendere fruibili a tutti i visitatori attraverso anche video di spiegazione non solo quindi la visione del parato ma anche una struttura divulgativa che possa arrivare a tutti e spiegare il meraviglioso mondo del Tessile antico. La mostra è stata realizzata con la collaborazione di Valdo Spini, presidente dell'Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane, che ha sottolineato come il prestito dei paramenti sacri di Niccolò Quinto da parte del Museo del Bargello di Firenze sia molto prestigioso e significativo. Ecco, il fatto che un comune come Fivizzano si sia dato così da fare per poter ricostruire attraverso i paramenti la storia e il significato dell'azione di un Papa che ha preso i Natali in quella città credo che sia veramente una cosa da lodare. Cioè questi comuni nostri che hanno individuato nella cultura un elemento anche di sviluppo perché i nostri borghi e i nostri comuni che sono situati in modo periferico rispetto alle città hanno nella cultura un volano di sviluppo assolutamente necessario e assolutamente indispensabile. Chi è intelligente lo cura e devo dire l'amministrazione comunale di Fivizzano è intelligente e l'ha curato. Grazie a tutti i nostri spettatori